Si avvia verso l'ultima tappa il progetto espositivo Unnatural, una serie di 5 mostre proposte da Spazio Torso all'interno del programma di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, che ha voluto giocare sulle parole del titolo dell'iniziativa in un anno dove natura e cultura sono al centro delle iniziative culturali del territorio. Le prime 4 mostre avevano un focus tematico su alcuni argomenti, noi avevamo messo in relazione il binomio natura e cultura per andare a vedere quali sono i limiti, dove frizionano, dove invece si sposano. Prima avevamo fatto dei focus tematici, io e altro, corpo e ambiente, naturale e artificiale che riguardava più i materiali e organico e inorganico. Mentre invece l'ultima mostra, che è quella più prestigiosa a cui tengo veramente, è una mostra che ribalta tutti questi temi nei generi artistici. E quindi abbiamo degli ospiti di prestigio che sono Nicola Samori, Matteo Fato, Riccardo Baruzzi, Davide Tranchina, Rudy Cremonini e Michelangelo Galliani. E ognuno a suo modo ha mostrato quanto si è diventato innaturale andare a trattare i generi che hanno contraddistinto l'arte nella storia. Usano ciascuno un linguaggio e soprattutto un segno distintivo, però stiamo parlando di sei artisti che sono affermati, sono mezza carriera, sono molto rappresentativi dell'arte contemporanea italiana. Quindi nomi di prestigio che portano se stessi all'interno di questo concetto della natura e della cultura, però è ovvio che ognuno porta questo metalinguaggio che sia nella pittura piuttosto che nella scultura o nell'installazione. Quindi si è voluto mettere alla prova l'arte, che cos'è esattamente un tentativo di eternità rispetto al nostro vivere quotidiano che è molto effimero. Una mostra, così come il progetto stesso, che quindi gioca con le parole, come lo stesso vice sindaco pesarese racconta e che allo stesso tempo testimonia l'importante lavoro di valorizzazione portato avanti da Spazio Torso. È un gioco attorno al tema della natura e della cultura e ha cinque appuntamenti, questo è quello conclusivo di questo 2024, che Spazio Torso, che è una galleria privata, indipendente, che ha aperto in questi mesi, in realtà, fine 2023, a Pesaro, in Via Diaz, contribuendo anche a una rinascita e una vivacità della via, composta anche di altre gallerie, di altri studi di artista, e ospita normalmente artisti, anche artisti, insomma, a cavallo tra l'asse tra Pesaro e Bologna, giovani artisti, con delle bi personali che hanno accompagnato, insomma, gli ultimi mesi, una tre giorni importante, quest'estate, che ha anche riscoperto la funzione della piazzetta davanti allo Spazio Torso, che è all'inizio della via, dove qualcuno ricorderà fino a pochi anni fa un minimarket, e questa volta invece è dedicata a una collettiva di artisti, che alcuni ha già calcato, diciamo, musei e sale espositive pesaresi, altri per la prima volta, ma di livello ormai nazionale e internazionale, come Matteo Fatto, come Nicola Samori, come diversi altri, e quindi un'occasione, diciamo, per, in questo caso, per raccogliere artisti affermati, tutta una generazione degli anni, degli anni settanta, quindi già ormai consolidati anche nella conoscenza del grande pubblico, quindi, diciamo, un gran finale per un anno importante, che Torso mette a disposizione, come gli altri momenti, per arricchire ancora questo programma che non finisce di Pesaro 2024.